Però se lo dicesse il Berlusconi di una volta, rimettete la barzelletta quella della Meloni, ti prego, quella è stupenda. Manda in onda anche la faccia della Meloni. È la radio però, c'è la barzelletta, fate mettere la barzelletta, dai. Mi hanno raccontato una barzelletta su Hitler che è terribile. Senti la voce, sono criticatissimo. Senti la voce. Dopo un po' che Hitler è morto, i suoi sostenitori vengono a sapere che è ancora vivo. Lo cercano dappertutto, lo trovano dopo le ricerche in un paese sconosciuto nelle ande. Führer, devi tornare, la democrazia ha fallito, ti aspettano tutti e per tre giorni vanno. E lui dice sempre di no, di no, di no. Alla fine si convince e dice sì, però ha una condizione. Torno a una condizione. La prossima volta, cattivi eh? Naturalmente. Ma da Trejo, la cosa bella è che la cosa da Trejo, la festa dei giovani della Meloni, Berlusconi, ma manda la faccia della Meloni però com'è. Giuseppe Davarese, vai. Giuseppe Davarese.